Al netto di tutte le polemiche sugli incarichi fiduciari che stanno tenendo banco a giarre con lo scontro tra il sindaco, Angelo Dann e l'opposizione, l'attività consigliare nelle prossime settimane dovrebbe subire un'ulteriore accelerata. L'obiettivo non dichiarato tempi tecnici permettendo è il bilancio di previsione 2015 che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale prima del 30 settembre, data entro la quale il Comune dovrà rendere conto alla Corte dei Conti sul piano di riequilibrio nella nuova versione extra-large a 30 anni. Ancora la proposta di delibera del bilancio non è arrivata all'ufficio di Presidenza e si attendono anche gli atti propedeutici mancanti. Nei prossimi giorni, forse anche domani o dopo domani, potrebbe essere convocata una conferenza dei capigruppo per decidere la data della nuova seduta consigliare per la settimana prossima. Il presidente Francesco Longo insieme ai capigruppo farà il punto della situazione sugli atti esitati dalle commissioni negli ultimi giorni per valutare quali mettere nel prossimo ordine del giorno. Intanto è stato reso noto che lo scorso 30 agosto è stato presentato al Tar di Catania uno dei due ricorsi contro l'assegnazione del premio di maggioranza per l'elezione del Consiglio Comunale. Il ricorso è stato firmato da Gabriele Di Grazia, Valentina Donzello e Angelo Turrisi, rispettivamente primi dei non eletti delle liste Giarre 2.0, Progetto per Giarre e Il Megafono. Un ricorso speculare è stato annunciato anche da Agata Calvagno, seconda classificata della lista Democratici per Giarre. I ricorrenti ritengono che non avendo ottenuto le liste di Angelo Danne il 40%, si debba procedere alla riassegnazione dei seggi con il sistema proporzionale puro.